Parliamo della vittoria dell'Atalanta con Gabriele Lunetta, allora magari partiamo dal tuo super goal. Dai, sono contento, ho fatto un bel goal, contento così abbiamo chiuso la partita con quel goal 2-0 e abbiamo giocato un po' più tranquilli nel secondo tempo, anche perché il primo è stato un primo tempo tosto perché loro erano una buona squadra, spingevano tanto, quindi siamo contenti, bel risultato. È stata una gara che avete giocato sempre in controllo con l'Udinese, e avete concesso nulla praticamente. Sì, diciamo che è un po' la nostra forza, concediamo poco, poi quando abbiamo le occasioni proviamo sempre a far goal e poi siamo bravi a gestire la partita e quando c'è il momento proviamo a chiuderla in contropiede, quindi siamo contenti. Quarta vittoria di fila vuol dire qualcosa? Sì, no, sicuramente, abbiamo fatto 16 punti in 6 partite, quindi ci stiamo andando bene, e dobbiamo continuare così ovviamente perché è lunga ancora, quindi siamo contenti ancora. È lunga per arrivare dove? Diciamo che facciamo il massimo che possiamo, adesso gli obiettivi non ce li prefissiamo, dobbiamo fare il massimo, speriamo di arrivare più in alto possibile, più avanti possibile, che vogliamo fare ovviamente meglio dell'anno scorso.